e intro. Ciao a tutti ragazzi sono Zioac dal 1998 il numero uno nel miglioramento personale underground e nelle aree di miglioramento underground una delle più importanti è l'apprendimento e adesso in questo podcast con Manolo che è di coccoa.com dove recensisce libri e appassionato di lettura e Giovanni che invece impara in un modo più adatto a lui parliamo di apprendimento che è stato uno dei temi principali all'inizio perché qualsiasi abilità la volta scorsa abbiamo parlato di seduzione parlando di miglioramento personale ma la cosa più importante è dove e come impari queste cose e qui lo vediamo insieme chi vuole iniziare vai Manolo allora io parto facendo tutta la premessa apprendimento è una parola mega gigante cioè gigantesca che ha dentro di tutto e di più e di sicuro non sono sicuro di essere io il magister a poter insegnare come apprendere perché adesso vai dai un po di tempo non l'ho detto posso dire che ormai in questi x decine di anni che tra una cosa e l'altra che studio materie extra scolastiche su cui invece non ero particolarmente brillante mi sono accorto che se una cosa ti piace non c'è nemmeno bisogno di studiarla cioè ci sono cose che piace la studi lo stesso perché ti piace non c'è bisogno di studiarla intendo la fatica dello studio perché se no qua non c'è bisogno di studiarla vuol dire che la leggi la guardi la fai e la impari naturalmente al contrario di cose che invece devi prendere il libro studiarlo e che palle devo sottolineare fare appunti cioè è proprio un cambio di mindset totale quindi è per questo cambio di mindset vi dico una cosa il segreto che ho scoperto in questi anni che se tu è fanculo la motivazione se tu studi qualcosa a uno se ti piace comunque ti ci metti lì e se riesci in qualche modo ad associare le due pulsioni biologiche primarie di sopravvivenza e replicazione a quello che studi studi molto in fretta esempio che facevamo una puntata precedente a seduzione ho fatto ogni esperimento di socializzazione che non ho concluso il loop quindi chi non ha seguito chi non ha seguito questa se perde questo pezzo io in quell'anno ho imparato anche a diventare fotografo non sapevo nulla di fotografia non sapevo tenere la macchina non sapevo la macchina digitale non sapevo usare photoshop vi garantisco che il potere motivazionale del tira di più che il carro di buoi funziona di brutto nel senso che in pochi mesi con i tutorial con i video con i libri con tutto sono veramente ero ossessionato da quello quello il termine giusto se riusciamo a diventare sapi o sessuali in modo diverso ovvero a mettere la componente della diciamo in qualche modo di qualcosa di molto importante per noi nell'apprendimento non facciamo fatica e l'altro passo poi di iniziare piccoli costruire l'abitudine alla lettura o all'ascolto ai video poi vediamo ci sono canali sensoriali diversi ognuno di noi ne ha uno ne ha uno più preferiti ecco che diventiamo dei super studenti scusa io me lo ricordo quel tuo quel tuo periodo da da fotografo e io all'epoca facevo su gq è in poco tempo lavoravo come giornalista e fotoreporter e mi ricordo che mi capitava che ogni tanto mi chiedessi qualche consiglio di robe così e avevo visto proprio la tua curva di apprendimento che era stata mostruosa cioè non avevi mai preso in mano una macchina fotografica e nel giro veramente di qualche mese ti eri diventato un fenomeno poi ci sono altri aspetti che qua ma quelli li lasciamo qua non li dobbiamo però è stato anche un esperimento sociale in quell'anno sono andato a 54 appuntamenti il mio obiettivo era avere un appuntamento un dating alla settimana e ho fatto e ho fatto tanto dating ho imparato tante cose che mi hanno migliorato come essere umano nel lavoro ma torniamo ai libri di manolo che l'altro giorno in una live ci ha fatto vedere il suo kindle che è pieno 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 di libri io finisco questo era il mio la mia cosa poi dimettivamente ne abbiamo tutti studiati tanti da quelli super asciutti quindi derivazione americana quindi sempre per citare il solito tim ferris che nella sua superficialità delle cose il dis e il caffè scheda faremo la scheda sul dis e caffè cioè la decostruzione per le abilità e dei sistemi di codifica eccetera il suo modello ma secondo me ecco più che perri scusa ma no se ti interrompo sempre ma mi diverte la cosa mi dà proprio un piacere personale no però è una delle cose più importanti che state nella mia vita prima di iniziare a fare corsi eccetera nel 98 è stata trovare memo memoria e metodo e lì in particolare a parte la finale della dinamica mentale che io avevo già fatto in quel famoso corso là che però è fatta molto bene in memo soprattutto la parte non metafisica quindi è quella più valida cercatevelo in giro che da qualche parte lo trovate zioac c'è anche quel componente cercate cercate nei posti dove nessuno dovrebbe cercare comunque perché non è più in vendita purtroppo comunque l'altra cosa le mappe mentali di toni buzzano ne ho parlato da subito nel mio lavoro perché già li usavo al politecnico ricordo una volta ero dentro una stanza no e c'era che non è troppo tecnica insomma c'era c'è un corso molto tecnico entrano questi non facciamo dei corsi di apprendimento sai venditori i poveri studenti sfruttati da aziende senza scrupoli per per diventare venditori in cambio di carne da cannone costosissimo del maiale non si butta nulla queste cose di queste psicosette dell'apprendimento perché c'è ogni corso apprendimento è una psicosette in italia a meno che non sia appunto fatto tipo cosa e arrivano fanno c'è questo corso e poi si imparano anche le mappe mentali gli faccio mappe mentali come questa ed avevo il foglio orizzontale disegnato a mano con le mie marate ce l'ho sempre in giro anche se non uso più carte penne a tempo con le mie pennette colorate avevamo visto un cazzo di alieno guarda ha chiamato l'altro forse appunto carne da cannone non avevano ancora fatto il corso non lo so probabile non è ancora guadagnando loro posto in paradiso anche perché mi ha mi ha chiamato uno di quelli che ha portato queste cose in italia quando iniziato mi hanno chiamato in tanti stato gentilissimo johnny si è presentato e cosa quindi ho conosciuto quelli che poi hanno portato le memotecniche in italia posso dire che quel settore delle memotecniche è fermo ai tempi di harry loren che è che quindi se fermo centinaia d'anni fa anche cioè jim quick tutti questi moderni non stanno portando pochissimo di nuovo niente di nuova niente chiamano gli avengers porca miseria perché non posso andare anch'io dagli avengers questo mi domando comunque ecco volevo citare le mappe mentali del buon toni riposi in pace anche il buongiorno riposi in pace assolutamente conferma anche io le mappe quando le ho scoperte sono state una svolta perché cioè è proprio un che cambiano completamente l'approccio alla schematizzazione propria al che sono veramente uno strumento uno strumento eccezionale essi perché il nostro cervello che cosa fa di base crea collegamenti cioè i neuroni si connettono tra di loro ma infatti secondo me le mappe mentali sono scusami uno strumento di pensiero più ancora che di apprendimento cioè io non le metterei nemmeno limitatamente all'apprendimento ma proprio perché secondo me almeno dal mio punto di vista funziona molto di più nel fare il brain dumping che fare un bresto che nemmeno assorbimento vero vero e aggiungerei mappe mentali e anche mappe concettuali perché io spesso uso quelle concettuali e se fondamentalmente sono le mentali un po prive di grafica e spesso quando uso questa gejio che remarkable 2 sono sono prive di colore poi infatti a un certo punto ho detto vabbè ci ho provato una volta ci riprovo e sono passato all'ipadone questo questo cosa qua che che fa che mi permette di usare il colore perché in effetti il remarco è bellissimo per gli appunti così al volo mentre parliamo noi però manca manca del colore e manca tanto il colore piaccia il cervello aiuta sì la storia dell'emisfero destro col colore e così non è proprio così ma adesso non perdiamo tempo in neurobiologia neuroscienze anche perché c'è magari quelle le teniamo per un'altra puntata magari intervisto qualcuno anche più preparato insomma che cazzo c'è più preparato ah no vabbè scherzo magari dopo sento sento il mio amico Mico Delli magari vediamo di fare qualcosa anche con lui però il punto il punto è che effettivamente è un modo di pensare diverso qual è il difetto che poi inizi a parlare come me salti come parlano gli amici salti di palo in frasca lasci i lupo aperti ma questo a livello di comunicazione è un vantaggio perché è molto più naturale e rimane di più rimane di più cosa quello che è importante secondo me una comunicazione troppo lineale troppo strutturata torniamo al discorso del metodo che è fondamentale nell'apprendimento perché tu nell'apprendimento e devi sempre usare quello che dicevamo una distorsione una metodologia perché ognuno di noi è diverso ad esempio se uno è dislessico buongiorno a tutti sono dislessico no scherzi a parte io ho una dislessia leggera per l'amore del cielo non niente di tremendo però è un qualcosa che da sempre mi ha dato una chiamiamolo un piccolo handicap ovvero per me la lettura è un'attività estremamente faticosa cioè non sono un lettore forte leggo per necessità perché nel mio lavoro comunque è necessario farlo occupandomi di formazione consulenza il mio lavoro una buona fetta del mio lavoro fa parte dell'apprendimento che poi trasmetto ad altri e di conseguenza leggo per necessità ma io nella mia vita ho sempre trovato altri metodi di apprendimento molto molto più funzionali io ad esempio ascolto e vedo fare le cose e le apprendo con una velocità pazzesca cioè io generalmente anche cose manuali le vedo fare una volta e sono in grado di riprodurle è una sorta di compensazione del mio cervello della di questa di questa difficoltà dall'altra parte e da questo punto di vista ho trovato sotto consiglio dello zio la una piccola nuova isola felice che è l'ascolto accelerato perché siccome per me ascoltare le cose è uno strumento di apprendimento molto molto più efficace che leggerle l'ascolto accelerato per cui la possibilità di ascoltare a per due i video gli audio ha letteralmente raddoppiato la quantità di informazioni che sono che sono in grado di assimilare nella stessa quantità di tempo che per me è fenomenale anche perché io ho interessi vastissimi mi piacciono centinaia di cose e spesso mi ritrovo con lo scoglio dell'avere il tempo di starci dietro e devo dire che da questo punto di vista gli strumenti tecnologici applicazioni varie che ci sono se non supportate in modo nativo come adesso fa ad esempio anche youtube che consentono l'ascolto accelerato sono personalmente una delle figate più totali del dell'ultimo periodo è che sì sì oggi finalmente c'è tra l'altro ascolto accelerato senza che la faccia diventino esatto perché mantengono il pitch ampliando la velocità per cui eviti l'effetto alvin and the chipmunks che invece si aveva con gli prometti precedenti hai parlato di una cosa molto importante l'orizzontalità quindi la non specializzazione verticale in un settore che un discorso molto importante lo chiamano anche essere fluidi essere molti talentuosi o ai miei tempi li che lo chiamavano essere rinascimentali quindi alla leonardo da vinci tante passioni lui è il genio originale insomma da cui è arrivata anche le mappe mentali come concetto derivano da lui mischiare grafica appunti eccetera tutto il lavoro di michael gelb sui sulla sull'apprendimento sulla creatività di leonardo eccetera molto interessante magari un po' banalotto però interessante ma lascia mettiamolo mettiamolo in fondo e verrai arsovivo da molti no però in effetti era quello che dice perlomeno lui in un settore che è statico ha portato un qualcosa di originale a modo suo quindi ha portato un pochino di innovazione se no tutti da cent'anni insegnano le stesse memotecniche memotecniche che nell'apprendimento sono utili solo per certe cose specifiche ecco poi ripeto e tutti gli altri stanno ripetendo concetti e cose antiche a me il framework è piaciuto però è il il framework di pensare come leonardo mi ha proprio parla anche italiano quindi ci può capire se vuoi commenta sotto perdonami no anche a me anche a me è piaciuto lo seguo ovviamente quindi come seguo una marea di altri mentori persone che non sanno neanche che sono miei mentori cioè sono comunque fonti di ispirazione eccetera l'importante è sceglierli di qualità esatto è bravo questo è l'argomento più importante non è il discorso di studiare nel discorso di non studiare minchiate a monte perché garbage in garbage out non vale solo per il computer nel giro vale anche per gli esseri umani quindi se uno inizia a leggersi come ho fatto io ai tempi ecco perché sono molto contro la letteratura new age oggi a meno che uno non lo sa che la mette in un frame di intrattenimento se uno inizia a leggersi scaffali di spazzatura e poi ci mette intanto in giro c'è ricerca sperimentale psicologica biologica neurobiologica uno sta rallentando il proprio miglioramento personale a tutti gli effetti e il proprio apprendimento ecco perché sono sono un grande fan più che dell'aggiungere il mio sistema di produttività parte dal cestino poi adesso anche altri l'hanno adottato cioè parte dal togliere altra cosa per l'apprendimento essenziale e magari ne parliamo nella prossima puntata è il discorso della salute cioè una cosa più importante per l'apprendimento è la piramide del benessere quindi togliere lo stress dormire bene perché il vero apprendimento e come l'allenamento avviene durante il sonno cioè benefici che abbiamo durante il riposo quindi dare una grande priorità al sonno e mantenere il corpo in salute con un movimento possibilmente funzionale un allenamento movimento quotidiano senza di questi tutto il nostro sistema non funziona bene ecco perché mi stupisco che ci siano è un grande una grande lode alla capacità umana comunque di studiare molto gli intellettuali dovrebbero sembrare tutti dei bodybuilder e in realtà non è così questo mostra che comunque il abbiamo degli strumenti di apprendimento molto potente io seguo gente di un paio di decadi anche più giovani di me come cazzo fatto quello lì a quell'età a imparare tutte quelle cose uno viviamo in un mondo oggi che ci dà la possibilità di imparare sempre di più e rapidamente ci sono delle sintesi bellissime cioè vuoi imparare la psicologia non so seguiti il podcast sinel di genaro magnoli o vai su audible e c'è scuola di psicologia di mazzucchelli e della collega mi scuso il nome non lo ricordo e bravissimi c'è una sintesi pazzesca un bignami audio quindi è ideale anche per te giovanni io per tanto tempo sono stato leggevo un libro al mese e guarda una fracassata di video cioè tutto quello che avete visto con i miei clienti nei videocorsi cambiare divertenti società io l'avevo imparato e replicato in video e come diceva manoro o giovanni riesco a assorbire le abilità viste in video a patto che non siano fisiche cioè se vedo un video di uno che strappa da terra 120 kg non alzo se vedo uno che fa jiu jitsu non imparo il jiu jitsu però imparo i principi del jiu jitsu adesso hanno fatto un nuovo corso i grassi iron e come cazzo si chiama della grassi university sui 32 principi e quelli cioè le parti diciamo concettuali o che si possono replicare verbalmente o mentalmente quelle riesco a assorbire e quindi quando ho visto la pnl ho capito uno che mi serviva un certo tipo di atteggiamento psicologico per poterlo applicare torniamo al discorso seduzione serve un inner game serve un certo tipo di atteggiamento un po feroce interiore e che poi andando nell'ipnosi diventa ancora più feroce perché parleremo anche di ipnosi se volete seguiteci mettete il like fate la recensione a 5 stelle mandatemi una schermata a zio chiaccia al migliorati.org avrete in omaggio un mio video mentre faccio la doccia avete in omaggio qualcosa che mi potrà essere utile in base alla vostra recensione che non è la foto dello zio che fa la doccia assolutamente era un video anche perché magari posso darvi un video di una delle modelle lì potrebbe già essere più interessante e lì avrai testimonianze pazzesche perché quello è il fattore motivazionale biologico che abbiamo detto all'inizio comunque per chiudere che cosa è stato più utile per voi nell'apprendimento quindi diamo come sempre zio hack perché io do cose pratiche che uno può usare subito abbiamo parlato dell'ascolto accelerato delle mappe mentali che sono molto semplici da fare idea centrale al centro con un po di grafica ramo possibilmente colorato una parola per ogni ramo più disegnette e immagini possibili se non sono mappe concettuali che vanno benissimo una parola per ramo perché permette di collegare altre parole e creare le connessioni neuronali e si parte dal centro l'idea più importante e nei rami le idee secondarie e via via le idee cose quindi da una gerarchia da una struttura reticolare il foglio di solito viene messo in orizzontale e vabbè se andate sul mio sito sul mio blog ecnews.net ogni puntata recentemente mettiamo anche le mie mappe concettuali che non capirete perché la mappa concettuale è una codifica non per voi ma per me ma le metto lo stesso per dare un'idea anche perché hai una pessima scrittura anche perché è una pessima scrittura e concordo perché a volte non riesco a leggerla dopo due giorni e scrivo, attenzione, le mappe concettuali scrivono sempre in stampatello figurati se ne scrivessi in cursivo se io non riesco neanche a leggere quello che scrivo in stampatello figurati come cazzo sono messo consigli pratici dal mio punto di vista anche proprio testandolo fisicamente sui miei clienti e studenti che uso ovviamente come cavie per i metodi di apprendimento bravo altro consiglio pratico spiegate quello che avete appreso a qualcun altro cioè io tutto quello che ho fatto il manuale di seduzione l'ho scritto per me spiegandolo a qualcun altro per imparare quello che stavo studiando da questi presunti esperti esatto mi hai proprio anticipato cioè spiegarlo a qualcun altro e provarlo cioè mettere in pratica quello che si è imparato azione perché sono due modi per fissare i concetti in modo immediato e per mantenerli nel tempo perché al concetto si collega una memoria di tipo esperienziale per cui se tu una roba che leggi nei dieci minuti un'ora successivo la provi una volta te la ricorderai dieci volte di più che averla letta dieci volte metodo Montessori una delle cose del metodo Montessori che ancora oggi è un'altra scheda non ci sarà mai comunque proviamo ma a noi piace pensare che ci saranno Manolo io devo ripetere quello che avete detto voi mappe mentali secondo me è il primo strumento di chiarezza totale totale ma ripeto anche proprio per un brain damping e il ripetere riformulare rimangiare digerire e ributtare fuori è un ottimo metodo tant'è che Cocoa se guardate i primi video cioè i primi video comunque i primi articoli è cresciuto insieme a me cioè io che non ero anzi non sono neanche adesso un maestro a parlare in pubblico però ho detto ok incominciamo a fare direttamente i video dove faccio le recensioni dove parlo delle cose che ho letto per imparare è inutile che mi studio come imparare se poi non pratico lo faccio mi metto a berlina perché ho detto dei video con quelle bestialità di cui me ne vergogno ma li lascio apposta cioè per il momento mori no? bravo ci sono su quando sarò presidente della repubblica li toglierò ma prima di allora li tengo li terrò sempre e va avanti adesso sto imparando a fare un po' i videomaker un'altra cosa importante mano a mano che uno apprende è inevitabile che sia in disaccordo con se stesso cioè io non sono d'accordo con me stesso di quando ho iniziato ma neanche un po' ero troppo new age proprio perché avevo quegli scaffali di fuffa nella testa quindi quando sono infattico su certe cose sulle psicosette su come vengono condotte le cose è perché fondamentalmente sono il primo che c'è cascato c'è cascato per primo nella legge d'attrazione in una marea di boiate new age tremende sono stato primo a parlare di asterix di queste cose e pur essendoci delle componenti che magari poi nel tempo uno può tenere sono valide non si butta via tutto non si butta via tutto del passato però si evolve e se non ti vergogni del tuo lavoro iniziale vuol dire che sei rimasto lo stesso cioè se è stato un formatore italiano che conosco ma non citiamo ho lì anche il suo libro con la dedica quelli in fondo sono tutti libri che mi hanno dato con dedica poi qualche giorno ti viene fuori ma è meglio non farla vedere altrimenti uno si mette dei dubbi su chi ha scritto quel libro comunque che gli dico ma tu stai ancora dopo x decenni a fare quelle cose lì e questa è la cosa peggiore che ti possono dire cioè se tu non guardi dietro te stesso ma che cazzo di coglione ero in termini tecnici è proprio che cazzo di coglione ero vuol dire che non hai appreso non hai memorizzato non hai messo qualcosa di nuovo ecco scusa sto interrotto ma questo era sì con un mondo che è andato avanti nel frattempo e alla grandissima quindi perché nell'apprendimento del futuro bravo Manolo tu mi dai degli spunti pazzeschi quindi io ti cagherò il cazzo e ti interromperò il mondo del futuro tra poco iniziamo a dialogare con le intelligenze artificiali e quindi sarà un altro modo oltre ai video agli audio che abbiamo parlato o ai libri oramai io da due anni sono passato totalmente al digitale anche perché una volta questa è la stanza più importante di casa dicevo la biblioteca oggi la stanza più importante di casa è quella là che poi vi farò vedere seguitemi su Instagram uno TikTok è la palestra quella di fianco che comunica attraverso la porta e appunto oggi la stanza più importante è la palestra perché è stata dematerializzata con la nuova tecnologia la libreria oramai è dematerializzata con quegli aggeggi che vi ho fatto vedere ma ed è un mene perché mi permette le ricerche mi permette appunti mi permette di fare tante cose sofisticate possiamo andare avanti questa è un'introduzione poi potremmo parlare di come usare la tecnologia ma al futuro noi parleremo con un'intelligenza che ci potrà spiegare bene Socrate potremmo parlare con un Socrate virtuale con gli occhialini già c'è il Cast 2 che non è male e ci risponderà e ci spiegherà la sua filosofia e noi diremo le cose e magari un giorno l'intelligenza artificiale anche se ha le sue dissonanze cognitive anche adesso ci correggerà il nostro è tutto il lavoro di Kahneman scheda per cui ha vinto il Nobel nel 2002 avete capito che non abbiamo script non abbiamo mappa assolutamente o le sai o non le sai tutto abbraccio scusa Manolo vai dammi altri spunti è finito 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 ciao a tutti un abbraccio seguite mettete like commentate fate domande sotto che vi rispondo su YouTube personalmente e entrate nel gruppo Telegram cercate Zio H quattro lettere l'ultima è la H di Hotel e lì poi vedete il mio nome potete usare Google ma state attenti cosa trovate e non abbiate paura di cambiare idea mai mai aver paura di cambiare idea più l'apprendimento è l'esatto opposto del continuare a cambiare idea rifinire le proprie idee e a volte essere in disaccordo con se stessi ciao a tutti bella ciao a tutti